Musica Cari amici di Quotidiano.net, bentornati per parlare della Nazionale Italiana di Calcio. Sono le 16 e 15 del 1 luglio 2010, si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione di Cesare Prandelli, 52 anni, da oggi nuovo allenatore dell'Italia, ex campione del mondo. Diciamo subito che se la prima impressione è quella che conta, Prandelli è partito con il piede giusto. Sono trascorsi soltanto 7 giorni dalla disastrosa eliminazione dell'Italia e dell'IPI dal campionato del mondo in Sudafrica, sembra siano passati 70 anni. Là dove c'era l'arroganza, la presunzione, l'assoluta determinazione a non spiegare mai con chiarezza le scelte e le esclusioni, l'arroccamento in un fortino come se all'esterno ci fossero milioni di nemici sempre pronti ad assalirlo, cosa che in realtà non era ebbene. Tutto questo è stato spazzato via dall'umiltà, dalla sobrietà, dall'equilibrio del nuovo commissario tecnico, che ha spalancato le porte a Balotelli, a Cassano, a tutti i giovani che abbiano i requisiti necessari, anche a livello comportamentale. Questo è stato un passaggio importante per indossare la maglia della nazionale. Prandelli ha sottolineato l'orgoglio di appartenere al Club Italia, la sua grande soddisfazione per essere stato chiamato ad allenare la nazionale, la sua intenzione di promuovere Buffon capitano sul campo quando ritornerà in nazionale dopo un intervento chirurgico alla schiena, a quale il portiere della Juve si sottoporrà nelle prossime settimane, investendo lo stesso Buffon di un'autorità e di un'autorevolezza morale che sia ad esempio ai compagni della nuova Italia che Prandelli andrà a costruire. Il suo contratto è di quattro anni, il primo obiettivo è la qualificazione all'europeo del 2012, le prime partite con Estonia e Farul sono in programma all'inizio di settembre, il 10 agosto ci sarà l'amichevole di Londra con la Costa d'Avoria, c'è molto da loro fare da Prandelli che significativamente si è appellato allo spirito dell'Italia dell'82, ha reso onore a Denzo Bearzotti, ha reso omaggio a Marcello Lippi dicendo che del suo lavoro nulla verrà buttato via e sottolineando il fatto che per lui l'impresa del 2006 ovviamente è più importante e non può essere cancellata dal disastro del 2010. Anche dal punto di vista umano Prandelli ha dato subito un saggio del suo grande spessore, comincia questa nuova avventura alla guida della nazionale, Cesare Prandelli la comincia con il piede giusto.